Siamo in questo simpatico Dennis, che è un po' come essere a Riverdale, con i nostri strawberry midshakes, con la differenza che noi li beviamo, waiting for the pancakes, top! Hai una faccia molto soddisfatta. Lo sono. Anch'io, con il mio panino vegetariano. Siamo su NASA Boulevard, quindi dovremmo essere vicini. Is there our credit card only? Siamo su. Siamo su. Siamo su. Siamo su. Siamo su. Quarto d'ora di distanza dal nostro albergo qui a Orlando, siamo ora a Orlando già da un bel po' in realtà perché questa città è enorme, anche se in realtà adesso, in questo preciso momento, intorno a noi non c'è nulla. Il nostro programma di oggi, che prevedeva appunto di andare a Cape Canaveral e al Kennedy Space Center, è naufragato perché siamo arrivati che erano le 2, 75 dollari di biglietto a testa, insomma ci siamo detti anche no. Quindi alla fine abbiamo optato per venire direttamente qui a Orlando, con calma, senza fare corse, anche perché oltre a fare il check-in in albergo dobbiamo andare al Disney Spring. E fare il bagno in piscina. Che è il posto praticamente di Disney World dove si possono ritirare i biglietti, ci dovrebbe essere un'accommodation o comunque un centro di informazioni che dobbiamo chiedere un'infinità di robe, perché per essere tranquilli domani, che sarà il nostro primo giorno a Disney World, vogliamo essere super tranquilli. E fare il bagno in piscina. Faremo forse il bagno in piscina, comunque insomma abbiamo deciso di venire diretti qua. Adesso noi siamo tra l'altro fermi a questo incrocio. Ora vi inquadro, che si chiama, c'è una strada che si chiama Universal Street. Universal Boulevard. Hai già scritto? Ah, Boulevard hai ragione. E quindi niente, questo fa capire che siamo effettivamente nella zona giusta e basta. Per il momento lasciamo in pace i video, anche se oggi non ne abbiamo fatti tanti, però probabilmente faremo delle belle riprese dal Disney Spring e forse anche dal nostro albergo, chi lo sa, se è carino faremo dei video anche lì. Scusa Dario, ma qua ci deve essere per forza di cosa un errore, perché questo albergo sembra troppo bello per essere l'albergo che abbiamo prenotato noi. Cioè, ma che è? Ma è meraviglioso. Stiamo andando in direzione Disney Spring, siamo appena, abbiamo prasciato il nostro albergo e stiamo andando in direzione Disney Spring appunto per capire come fare per organizzarci al meglio domani, che sarà la nostra prima giornata a Disney World e andremo a Magic Kingdom. E stiamo per passare, stiamo per entrare proprio nella zona di Orlando dove regna la Disney praticamente. Eccoci, stiamo entrando a Disney World. Ok, in teoria siamo arrivati al Disney Spring e dobbiamo solo capire dove si parcheggia, perché non riusciamo a trovare il parcheggio. Però, per averlo trovato, l'abbiamo trovato. E' questo qua. Mi scusi, bel uomo? Sono a Disney Spring. E' proprio qua, sì. Hai la faccia preoccupata. Sì. Non ci preoccupate, come non filmarmi. Grazie, ciao. Allora, siamo al Disney Spring e siamo qua perché intanto vogliamo capire se serve avere il biglietto fisico o se è sufficiente averlo sul telefono, cosa che però sarebbe un po' problematica per noi perché non riusciamo ad avere internet continuamente. Poi abbiamo un sacco di altre cose da chiedere, quindi siamo venuti qui al Disney Spring perché c'è il Disney Ticket Center. Al Disney Ticket Center ci hanno mandato in questo spazio, che tra l'altro è anche molto bello, molto elegante, dove stiamo aspettando per parlare con una persona. È una specie di welcome guest, una roba del genere. E quindi vediamo, insomma, se ci daranno tutte le risposte per le cose che ci servono perché abbiamo un po' di cose da chiedere. Niente, qua si confermano adorabili. Sì. Cioè, adorabili. Spendi milioni per fare le vacanze qua, ma sono adorabili. Cioè, gli abbiamo chiesto praticamente anche il codice fiscale di sua nonna e è stato adorabile, veramente carinissimo. E niente, speriamo che questa adorabilità si concretizzi. Scusa, senti che in canzone che c'è? No, vabbè, scusa. No, vabbè. Ma cos'è? Non ci posso credere. No, in questo momento, alle ci sono. Alcrimi. No, in questo momento. Scusa. Ammai. Cosa. Cosa. Allora, qui a Disney Springs, oltre a fare domande di ogni tipo, siamo anche riusciti a mettere le mani su le mappe dei parchi, che possono essere sicuramente utili prima di accedere, insomma, ai parchi veri e propri, così siamo già organizzati e ce l'abbiamo già, perché a volte non è così facile trovare le mappe quando sei dentro al parco. Noi ce l'abbiamo già. Così ce l'abbiamo già e riusciremo già a perdere prima di entrare nel parco. Ma tu potevi non accompagnarmi qua al Lego Store di Disney World? Sì, potevo. Avvicina anche un po'. Avvicina anche un po' Bella questa maglietta, bella questa felpa. Sììì. Bella anche questa. Da questa parte cosa abbiamo? Niente di che? Sono i prezzi che pregano. Tu sei più bello però. Questi sono tutti i design che ci sono di magliette, divisi ovviamente per colore e anche questi qua a fluo ci sono. Scusa cos'è che hai appena detto? Cos'è che faccio anche il Semsworth? Ah, merita il nostro controllo, il suo micro disegno quindi. Allora a parte vabbè che sto piangendo come un'aquila, però volevo far vedere a Dario, cioè volevo ritrarre Dario con il suo personaggio preferito. Questi sono vestiti per cani o comunque per animali. Le ciotole, cose varie per gli animali. C'è questo è stupendo. Mamma mia, mi piace tantissimo. E qua ce ne sono un sacco belli perché c'è anche questo che ci piace. C'è questo che mi piace molto. Molto belli. C'è troppo carino anche questo. C'è troppo carino. C'è troppo carino che c'è troppo carino? Grazie per la visione No, io adoro In tutto ciò l'ingegno della Disney Nel creare desiderio nelle spille E non solo vendere le spille Ma vendere anche questi cordini Dove tu poi metti le spille Quindi tu compri questo Per poter poi comprare le spille Da metterci sopra Cioè tutto ciò è veramente geniale Vedi, per fare queste robe qua Oh, queste, guarda che bella Questo kit di spille di Alice Sono dei geni del male Che ci hanno piccato anche dentro lei Nel dubbio ci provano Ma è Stravica o sbaglio? Scusa Ah no, da lontano sembrava Stravica Comunque Tutte cari Tutte belle, tutte carine Però raga, purtroppo Pocahontas Cioè Già la posso fare Ci sono 87 gradi E mi sta trascinando Nel negozio Days of Christmas Cioè Ma ragazzi Ma perché Ma perché tutti io li trovo Cioè Io veramente non ho parole Le lucine di Natale No, vabbè Cioè Ma perché Ma ci sono cose scusate A parte che fa un freddo qua dentro Che sembra davvero Natale Che fighe queste cose Queste cose infatti non c'erano negli altri negozi Sono nel negozio di Natale Cosa stai guardando? Decorazione natalizia con una di Castello di Eric Perché? Cosa stai guardando? Non c'erano Ma questo è un amico No a nessuno Non c'erano Non c'erano No Un carino Quego Che belle Guarda che carino Di questo No, bellissimi. No, vabbè, questa scena poi. Questo posto è talmente grande che ci siamo completamente persi, ma abbiamo la mappa interattiva dove ci dice dove siamo e dove dobbiamo andare, eppure siamo riusciti a perderci e siamo in zone dove non eravamo nemmeno arrivati prima, mai viste prima. Grazie. 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 Grazie.